il quale seguiamo un secondo 기ico ha possibilità di valore delle gestioni sociale o del sust tense si le ha chieste io come tengo iesto con tu Louis credo che sia c'è squat non cerca delle 2 cionando il altro castello buenos costos Il frutto è lo stesso iniziale e due settimane. Se va, se va, a dove si va, a dove è che cosa è? Sì, io non sta per andare ad andare! Un altro frutto è riusciti, un altro frutto è attraverso! E quattro frutto è che il frutto, un jugo, un jugo è allegato. Non solo nel finanzo dionesiore, nel corso di un libro. Né viene di fronte,ish. E poi che siano allegati o non allegati non mi capisci! Io sono soltanto che il tempo è la mente, le linee, il bilancio di previsione della cosa e come potete diventare la cosa. Una parola che si chiede va giusto a dire la parola. Non lo sapete quello che dice il Consigliere Gallo Gallucciò, da dove mai lo riempiono? Perché il Consigliere Gallucciò, e siccome qua ci sanno anche altri caputati, che non appartenenze a una maggioranza, voleva che rispida un locale, che si spende tutti i giorni al contatto, che i giorni si può portare a domenica. E io sono stati proprio una questione di bomba, dicendo che a alcune sedute, con quelle relative alle situazioni di bilancio e di cadavente, da cui va a rinforzare il servizio del bilancio di previsione, nel modo di previsione, di programmate, devono essere convocati in sezione dominana, dopo le cinque giorni alla politica, tutte le altre lecute, con quella, come quella che hai detto, devono essere convocati in sezione dominana. Tant'è vero, non verrà il dato, caro Presidente, e questo è una punta, ma diciamo sulla sua memoria, stagione, stagione, lo primo è il tuo contatto, e questa, diciamo, questa cosa non è una scritta delle palle della Commissione, che il primo consiglio contatto dovrebbe essere convocato il titolo di un interno, per molestando che si vede una sua sua, convocare il consiglio comunale, con il titolo di comunicatori e il sogno, per molestando questo, in concorrenza dei capi di un convocato, la provocazione del consiglio comunale, per il giorno di un interno, con i primi tre, i discursi a domenica del giorno, e solamente la salvaguardia dei titoli del financio, perché c'era un termine per la provocazione, che è nato sempre, e noi ci andavamo da questa conferenza, rimanendo così, e riempiandoci, convocandoci, per un ulteriore conferenza del gruppo che si doveva accorgere il giorno 24, che è una nuova data, sul cui, dovevamo portare i dati di un che hanno avuto i dati di un'altra. Contro, che sembra abbastanza paradossale, però secondo me, che possa anche impagliare, perché non sono comunque un tecnico, ma di un gruppo di leggerne, eccetera, che quando si tratta di spesso, della crisi della realizzazione e della ricognizione degli mobili di un'altra comunale, che sono allegati, condamnitati, all'inanzio delle distrutture, e che vengono inviati tutti quanti alla loro telecomunica, che ci si tratta di un gruppo. Quindi, secondo me, esiste un problema di votazione, ma è inutile essere votata, questa interazione che deve pensare in corretta, quando esistono, diciamo, funzioni del territorio per il Consiglio Comunale, esistente, che parli, ma visto, insomma, la tenuta, la forza, la grinta, questa maggioranza che si può fare, io crederei anche superiore, ma rimango nella condizione che comunque non abbiamo la presenza è ordinare, che la prova insieme a 181, quindi la prova insieme a 181.